No, metta la faccia così, e poi provare così. Come ero più i vetri nel tempo? Sono stati tanti morti, molte famiglie senza padre, senza pezzi. Ma che faceva una famiglia senza uomini? In quanti casi? No, metta la faccia così, e poi provare così, e poi provare così. Grazie.